Dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico, un titolo quanto mai azzeccato per un convegno al Consiglio Nazionale delle Ricerche per far capire a tutti, da una parte, quanto la scienza italiana stia lavorando sodo per aiutare imprese e società a mettere a punto cure e dall'altra comunicare sempre più in maniera chiara in modo tale che i cittadini possono farsi un'idea di ciò che bolle in pentola e, visti i risultati, nutrire sempre più speranze per la cura di molte malattie. L'obiettivo di questo convegno è sviluppare quello che attualmente viene chiamata la terza missione. La terza missione è la capacità della cultura scientifica di essere trasmessa, valorizzata e sviluppata in modo che possa essere un beneficio per la società, quindi possa incentivare lo sviluppo di progetti per la salute, progetti per l'ambiente, progetti per migliorare la qualità di vita. Ecco allora che la scienza biomedica prodotta dal CNR è in grado di sviluppare delle molecole partendo dal gene, conoscendo il controllo e la funzione dei geni, la struttura delle proteine, per poi sintetizzare nuove molecole e a sviluppare quella che viene chiamata target therapy, una terapia mirata. Qui potete vedere due dei nostri brevetti che sono stati finanziati dall'industria e quindi siamo stati in grado in fondo in pochi anni, in due anni, di sviluppare delle tecniche, delle modificazioni genetiche e di sviluppare un trasportatore che viene chiamato nanotransferrina, che ha interessato l'industria. Da una parte, modificando i geni siamo riusciti ad ottenere gli ottimi risultati per la patologia di Duchenne, dall'altra siamo riusciti ad ottenere risultati ottimi nel trattare tumori come quello del pancreas, il tubo anglioblastoma, il melanoma.